Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un fotoritocco molto semplice, molto carino e veloce da fare. Non vogliamo trasformare la foto di una persona in una specie, vedete, di timbro a fuoco fatto su legno. Allora iniziamo subito senza induci. È veramente facile. Apriamo immediatamente l'immagine di sfondo, clicchiamo apri immagine e facciamo lo sfondo, vedete il legno. E l'abbiamo aperto. Adesso noi dobbiamo girare, diciamo, verticalmente tutto il livello. Allora bisogna andare nel menu immagine, fare rotazione a immagine e ruotiamo a sinistra. Lo stiamo mettendo verticalmente, vedete con la rotella zoomiamo indietro, lo stiamo mettendo verticalmente perché in pratica la foto della persona che dobbiamo sovrapporre in questa doppia esposizione è in verticale. Allora aggiungiamo subito come secondo livello, vedete i livelli stanno in questo pannello qua, la foto di Brad Pitt. Allora andiamo nel menu livello, andiamo aggiungi livello come immagine e facciamo il primo piano. Questa è la foto di Brad Pitt e l'aggiungiamo. Adesso che cosa dobbiamo fare? Vedete abbiamo due livelli, quello sovrapposto è l'immagine di Brad Pitt e lo sfondo ovviamente sta sotto. Noi dobbiamo un pochino ridimensionarlo in maniera tale entri in maniera, non dico perfetta, ma accettabile all'interno dello sfondo. Non sempre le immagini sono della stessa misura. Possiamo anche, una volta che vedete il livello è selezionato con queste manigliette bianche, noi possiamo anche utilizzare per precisione, per fare degli spostamenti millimetrici, le freccine della tastiera. Bene, l'abbiamo messo nella posizione centrale. Selezionando questo livello qui, noi abbiamo bisogno adesso di trasformarlo in bianco e nero per farlo quell'effetto. Tecnicamente si chiama desaturazione dei colori. Andiamo nel menu regolazione, facciamo desaturazione ed ecco che si trasforma in bianco e nero. Sempre selezionando il livello della foto di Brad Pitt, andiamo sempre nel menu regolazioni e facciamo soia. È così che ci stiamo avvicinando a far sembrare un'immagine che era a colori in un timbro a fuoco su legno. La scegliamo un pochino, vedete, se andiamo verso destra, aumentiamo la soia, si fa troppo scuro, verso sinistra troppo chiaro. Scegliamo un livello di soia che consenta ai lineamenti di Brad Pitt di rimanere definiti. Va bene così, diciamo che va bene così, facciamo applica. Adesso noi dobbiamo togliere la parte bianca perché si deve vedere in trasparenza il legno sotto. utilizziamo questo strumento qui che è la penna magica. Seleziona con bacchetta magica e bisogna sempre togliere, per esempio, in questo tipo di selezione. Non deve essere contiguo, deve essere non contiguo perché io voglio che mi tolga tutto il bianco. Vediamo che cosa significa. Abbiamo messo una tolleranza di 32 e non l'abbiamo sfumato. Significa che se io tolgo l'opzione contiguo, se io clicco, per esempio, in mezzo alla fronte, clic, lui mi seleziona anche, vedete, tutto il bianchino che c'è in mezzo ai capelli. E questo avviene perché io ho tolto l'opzione contiguo. Se avessi utilizzato l'opzione contiguo, lui mi avrebbe selezionato tutto il bianco che era in un'area contigua e quindi non sarebbe entrata dentro i capelli. Adesso che ho selezionato il bianco, siccome questo livello possiede di default il canale alfa di trasparenza, è sufficiente nella tastiera del computer, premere i canci, cancellare il bianco. Andiamo nel menu seleziona, facciamo deseleziona e vedete che in trasparenza adesso appare. Quindi che cosa succede? Che le venature del legno sembrano un pochino le rughe di Brad Pitt. Però vediamo che è un pochino troppo nero. Allora andiamo nel menu filtro, facciamo libreria degli effetti e scegliamo proprio, diciamo, all'interno della libreria la cartella dei filtri di invecchiamento e scegliamo un filtro, vedete possiamo scegliere come questo, che porti il nero un pochino più sul marrone per far sembrare un bruciaticchio. Vedete che adesso sembra un pochino più credibile questi filtri, ovviamente noi possiamo anche modificarli in questa maniera. Facciamo applica. Andiamo sempre nel menu regolazioni, andiamo in luminosità e contrasto, vediamo se dobbiamo un pochino aumentare la luminosità o no, vediamo con il contrasto. Va bene così, facciamo applica e praticamente il fotoritocco è così completato. Noi abbiamo sovrapposto un'immagine a colori, l'abbiamo desaturata, cioè abbiamo portato in bianco e nero con il menu regolazioni desaturazione. Poi abbiamo fatto la soia, abbiamo tolto tutti i colori, abbiamo trasformato in un contrasto molto altro fra bianchi e neri e poi con lo strumento penna magica, bacchetta magica, senza l'opzione contiguo abbiamo selezionato tutto il bianco, l'abbiamo cancellato per far apparire la trasparenza e poi abbiamo un pochino applicato un filtro per far sembrare un pochino più un bruciaticchio di marrone, ma niente di che. A questo punto noi abbiamo terminato il fotoritocco, questi sono i due livelli, possiamo prendere questo livello qua, fare tasto destro e fare appiattisci immagine per renderla, vedete, un'immagine sola e possiamo andare in file ed esporta, esportazione rapida, d'accordo? Allora vediamola qua, noi facciamo così, questo lo cancelliamo, questo lo chiamiamo, per esempio lo possiamo chiamare prima, prima del fotoritocco, d'accordo? E lo mettiamo qua, mentre questo qua lo chiamiamo dopo il fotoritocco, dopo del fotoritocco. E adesso vediamo come è venuto questo effetto, doppio clicchiamo l'immagine di Brad Pitt che aveva una trasparenza, era già stato scontornato da noi, facciamo clic e questo è l'effetto, vedete, le venature del legno sembrano come delle righe di invecchiamento della torre Brad Pitt, questo è il prima e questo è il dopo. Bene, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero sia stato di vostra utilità al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.